è molto difficile c'è il discorso del regista in Italia è un discorso molto complesso che se ne potrebbe parlare delle ore probabilmente se poi in due minuti lo approfondiamo in realtà non te lo saprei neanche perché è un mostro che cambia, è un mutaforma cambia continuamente forma, il fatto è che o esiste il cinema dell'arte cioè quello de sé di cui i due esponenti sono sicuramente Sorrentino e Fergantone oppure oppure esiste esiste il cinema commerciale che è quello fatto dai faccioni in cartellonistica quindi di conseguenza capisci da te che il regista o è autore è un prestigio che aveva ancora tiriamo fuori tipo ah perché Fellini e cento anni della morte di Fellini a grande maestro cose così cioè o c'è il maestro o c'è lo shooter che gira il film del del che cozzalone di turno oppure del del cabarettista che esce fuori da Zelig cioè non esiste lo showrunner cioè al di là di Sollima per dirti Sollima è un esempio che lo è diventato sì esatto è comunque l'esempio più cioè lui è stato capace di trasformare in franchising qualsiasi cosa che ha toccato è una sorta di remida degli shooter gira romanzo criminale diventa un brand gira Gomorra diventa un brand gira Suburra diventa un brand e poi prende e se ne va zero 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 eccetera eccetera Michele faccio l'ultima domanda dopo lascio a te come vedi il panorama in questo momento perché c'è qualche cosa interessante no? c'è i fratelli Innocenzo comunque che hanno fatto una bella cosa eh sì io direi io direi sì e no come vedi il panorama cinematografico post-pavid eh morte e distruzione probabilmente non lo so cioè adesso saranno cavoli amari comunque sia per l'industria perché già se già in Italia producevano pochi film adesso prima di rientrare dei film che non sono usciti cioè perché molti film dovevano uscire per le sale e hanno perso il treno cioè comunque sia sono stati venduti a due soldi su delle piattaforme tipo a Fucili su 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 NautiV su altri per cercare di di rientrare un minimo della spesa fatta cioè non oso immaginare la mole di lavoro che molte persone hanno buttato nel cesso perché sono stati due anni appresso un film cercate di mettere insieme i fondi l'hanno girato stava per uscire fine beh chiusi tutti dentro casa il film non è uscito in sale e te lo tiri in faccia quelli sono investimenti di milioni di euro e quindi automaticamente adesso saranno tutti più accorti e tutti più più tirati ancora più tirati di quanto è normalmente i fratelli di Innocenzo sono due persone molto abili li abbiamo incontrati spesso e volentieri con Luigi anche in molte circostanze stanno facendo veramente un bel percorso autoriale cioè orientato comunque verso considerando anche un mercato estero che sia anche soltanto un percorso festivaliero che sia un percorso di cinema d'autore lo stanno facendo nel modo giusto visto che insomma stanno al secondo ragazzi ve lo consiglio i fratelli di Innocenzo la terra dell'abbastanza andatevelo a vedere Michi passo la palla a te grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti